Io vorrei partire con la prima domanda che volevo farle domenica, perché a me piace sempre un po' drammatizzare le cose, ho detto vogliono mettere a dura prova le buone intenzioni dei donadoni, parlare degli altri, vogliono indurre le inventazioni in questa quale oggi. No, credo che sia stata la scelta più opportuna quella fatta dalla società domenica, e quindi onde di tale, perché poi comunque nel dire, nel cercare di non dire a volte, si può avere il rischio di essere anche travisati, credo che sia stata strategia giusta, così come credo che sia stata la strategia giusta in un discorso assolutamente sensato e intelligente, quello fatto dal nostro Presidente. è chiaro che noi non pretendiamo assolutamente nulla di più di quello che è lecito aspettarsi e quindi avere questa uniformità di giudizio, non di giudizio arbitrale, ma di considerazione da parte poi anche di chi fa commenti e quindi esterno a determinate cose che sono secondo ognuno di noi più o meno lecite. Questo vale per me, allenatore, vale per i calciatori, vale per i Presidenti, vale per gli arbitri e per tutti quanti. Quindi abbiamo pensato, stiamo cercando di avere un certo tipo di condotta e di linea, credo che sia assolutamente impossibile da equivocare, quindi andiamo avanti in questo senso, condivido pienamente, ma non perché è il mio Presidente, perché ritengo che sia assolutamente il suo ragionamento, che ha una logica, che ha un senso e che ha del buon senso. Ecco, in proiezione di Fiorentina invece i tifosi contesteranno, hanno già annunciato contestazioni civili, ma contestazioni. Dal punto di vista della squadra, com'è difficile eliminare le scorie, lo dico io, visto che lei non lo vuol dire, di questo arbitraggio che ha segnato la partita con il Napoli, in proiezione del calcio giocato con la Fiorentina? Noi abbiamo solo la possibilità, quella di cercare di conquistarsi i punti sul campo, come ho già detto 15 giorni fa. È chiaro che in questo ragionamento ci va che abbiamo creato 3, 4, 5 persone in rete e ne abbiamo concretizzato solo una, dobbiamo essere più vari in questo, quindi dobbiamo essere superiori in questo senso. e ho detto già ai ragazzi che non dobbiamo crearci l'alibi, perché l'alibi è solo un discorso dei perdenti. Noi dobbiamo sapere che abbiamo fatto con il Napoli un'ottima gara, un'ottima prestazione, che si può fare ancora meglio di quello, in tanti piccoli particolari che poi possono cambiare l'inerte di una gara. Quindi, se noi avessimo fatto anche un gol o due in più, probabilmente certe cose sarebbero state smorzate, meno ingigantite o meno chiacchierate, e non ingigantite, perché non mi sembra che sia stato ingigantito nulla, però meno chiacchierate. E noi dobbiamo lavorare in questo senso. E spero che questo sia veramente un aspetto da apprezzare. Questo soltanto. Poi tutto il resto smorziano. Ma io mi si sbaglio, perché magari prendendo appunti o sbagliando, hai detto che quello che pretende il Parma è una, al di là della correttezza di giudizio degli arbitri, una correttezza di atteggiamento da parte del sistema. Allora come giudichi Nicchi che dice siamo addolorati per gli episodi di Milan-Miuve e non dice niente, non tanto solo su Genoa-Parma o Parma-Napoli, ma anche sugli episodi che investono il Chievo contro la Juventus, Inter-Catania, Lecce-Genoa? Non giudico. Parto da questo presupposto. Non voglio giudicare nessuno, perché non piace a ognuno di noi essere giudicati, quindi cantiamoci anche dalla parte opposta. Però credo che ci voglia del buon senso. Semplicemente questo. Ci voglia del buon senso. Il buon senso a 360 gradi è verso tutti quanti. Quindi noi siamo attori, protagonisti di uno sport importante e dobbiamo cercare di fare veramente la nostra parte e è deciso di aspettarsi che questo accada così come non ho dubbi. Non ho dubbi. Poi dopo ci sta che uno sbagli, ci sta che uno usi le parole sbagliate in un contesto e quindi magari la cosa esca peggio di quanto avrebbe voluto. Però parto da questo presupposto. Non voglio giudicare nessuno. Nenuno di noi poi vuole fare le valutazioni. Resto semplicemente. Pagherà secondo te andando fino alla fine del campionato questo vostro, diciamo, modo di essere eleganti? Perché ho letto un tweet di un giornalista nei giorni scorsi che dice Sedona Doni non dirà nulla. Nemmeno oggi, dopo quello che è successo, dopo Parma-Napoli, è veramente un signore. Ma io sono veramente stanco. Sono veramente stanco. Certo, ci troviamo di fronte agli stessi discorsi. Pagherà. Ma io credo che comportarsi come è licito e normale che uno si comporti cercando di essere corretto, il più onesto possibile, questo deve risultare controproducente. Se questo è, vuol dire, stravolgere tutto il mondo. Stravolgere tutto quello che è. La logica è quello che penso che tutti quanti noi, quantomeno se ci mettiamo lì con camma e ci ragioniamo, affermiamo in maniera assolutamente positiva. Adesso a volte io sento di dire ma forse è meglio fare i polemici, fare quelli che attaccano, quelli che sono veramente nauseato e stufo di queste cose. Io non voglio passare per il perbenista, non voglio passare per quello che vuole insegnare niente a nessuno. Questo è il mio modo di pensare, di ragionare. fine e mi piace che la squadra che io devo ragioni in questo modo e cerchi di fare quello che è giusto fare sul campo. Poi ognuno di noi, ripeto, fa le sue valutazioni. Io sono criticato e giudicato in funzione di quello che faccio. Lo stesso vale per tutte le componenti. Questo mi sembra più legittimo, ma senza voler screditare nessuno. baglio io, baglio i giocatori, bagliano gli arbitri. Quindi è bello anche vedere da parte di ognuno di noi un po' di autopritica, perché ho fine, scorsi, ma senza nessun tono polemico, perché non mi interessa fare nessuna polemica. Altrimenti direi quello che vorrei dire e le voglio intituire l'oportunità che ho merito a necessitar.